Torino, Sampdoria, Novara e Genoa sono queste le quattro squadre con le quali avranno a che fare i piccoli puccini del nostro territorio. Le formazioni di Grosio, Livigno, Bormiese, Tirannese, Pontese, Pentapiatera, Talamonese, Olimpic, Morvegno, Colico del Viese e Chiavennese scenderanno in campo questo fine settimana al centro sportivo di Grosio. Le rappresentative si sfideranno in un torneo da quattro gironi, ciascuno dei quali avrà al suo interno una squadra professionista in modo da poter dare ai nostri ragazzi la possibilità di confrontarsi con realtà di calibro superiori, come sottolineato dal presidente dell'Unione Sportiva Grosio, Pietro e Martino Pini. Secondo me è una bella esperienza di fare aggregazioni, di far conoscere le nostre vallate, anche gente da fuori, speriamo che sia una bella giornata di sport e di festa, è importante che sia per il tempo che si divertono i nostri bambini a cimentarsi con la realtà più grande delle nostre. Le partite partiranno dalle 14 di sabato per poi concludersi in entardo pomeriggio di domenica, un torneo in memoria di Marino Mosconi, scomparso tre anni fa, ma sempre nel cuore dell'Unione Sportiva Grosio, che va al di là del risultato agonistico. Per me è sempre una bella esperienza perché vedi dove è, cioè ti confronti con una realtà che logicamente è diversa dalla nostra, però è una bella esperienza secondo me, per tutti.